Sapete cosa sto tenendo in mano? Ah sì, quindi sapete cos'è un rullino fotografico? Sapete cos'è la pellicola? Allora dovreste anche voi sostenere lo slogan La pellicola non è morta. Gli americani lo dicono giustamente Film is not dead. Esiste anche un hashtag su Instagram dedicato appunto film is not dead, mi raccomando su Instagram, seguitemi come Gianluca.bocci e così potete seguire i miei sperimenti nel mondo denologico. Questo slogan Film is not dead è anche giustamente amato da Leica, lo storico brand tedesco perché effettivamente a catalogo fino a ieri aveva due fotocamere a pellicola oggi il numero arriva ben a tre. Si aggiunge infatti all'elenco delle fotocamere disponibili una riedizione rinnovata giornata della storica, dell'affascinante M6 e di questo infatti parliamo incredibilmente dell'edizione delle bocce news del 20 ottobre 2022 oggi si parla di analogico e di pellicola ma andiamo a vedere insieme questa nuova Leica Iniziamo dando uno sguardo alla storica Leica nel momento in cui è nata, l'M6 è nata nell'84 e come dice questa immagine presa dal sito di Leica appunto è nata nell'84 ma ha attraversato 16 paesi andando a testimoniare un numero impossibile da contare di momenti decisivi andando a utilizzare dice ben 11.979 di questi rulli. Ma se andiamo a vedere, ci aiuta di peer review con questa immagine affiancata, a sinistra la storica M6, pensate che ne hanno vendute ben 175.000 e a destra la nuova M6 nata nel 2022. Un modello in cui in realtà le modifiche sono state davvero pochissime. Abbiamo un nuovo mirino con un nuovo trattamento antiriflesso, reeditato dall'MP con il gradimento 0,72x, abbiamo un nuovo corpo realizzato in ottone, abbiamo una nuova elettronica che permette di gestire l'esposimetro con un'elettronica rinnovata e anche un'utilità che quella amare di avere una spia quando la batteria che fa funzionare l'esposimetro va a scaricarsi. Ma se andiamo a guardare il corpo, l'estetica è quella, con il telemetro, con il selettore delle cornicette, con le finiture bellissime, con il nottolino per ricevimento della pellicola inclinato, con la finitura, se non sbaglio si deve chiamare vulcanite, che ha questa sensazione tattile così bella, avevamo già parlato quando ho fatto il primo contatto dell'M11, quella digitale ovviamente, che vi rimando qui sopra, sul retro il selettore degli ISO che permette all'esposimetro di lavorare bene e tra l'altro anche di ricordarci noi qual è il rullo che abbiamo messo dentro e la vista superiore, quella più appagante, quella più elegante. Un dettaglio se vogliamo, si vede bene la scritta Ernst Leitz, Wetzlar Germany, qui l'avrò pronunciato, malissimo, bellissimo, la levetta di carica e la finistrella del contapose, ma c'è una novità se torniamo sulla vista frontale che il bollino rosso che prima c'era appunto scritto Leica, in questo caso invece è tornato a quello classico con la scritta Leitz. Tutto qui, né più né meno da dire su questa nuova fotocamera. E voi direte il prezzo, ma prima di dire il prezzo voglio farvi una domanda, ma ragazzi quanti di voi utilizzano ancora questi splendidi oggetti? Voglio saperlo sotto nei commenti. Perché ve lo dico? Perché sì, Leica come sempre è un prodotto prestigioso con una sua tradizione, con un suo lustro che insomma si fa anche pagare. Un prodotto comunque vi farò vedere tra poco costruito a mano con un'artigianalità e una modalità eccezionale, un prodotto che rimane utilizzabile per tutta la vita. Per dirvi la mia Leica è questa M3 che dovrebbe avere se non sbaglio 50 se non ben 60 anni e funziona bene? Beh ragazzi, ascoltate un attimo, questo era il suo un sessantesimo, perfettamente funzionante e un fascino immortale. Ma se lo compriamo ad oggi solo corpo ci costa 5135 euro. Una cifra importante a cui aggiunge giustamente quella delle ottiche, ma secondo me, vi ricordo ragazzi, che un'altra questione importante è il prezzo. Avete visto questo qui? Questa è una della mia scorta dei velvi a 50. Sapete quanto costa oggi? Tra i 20 e 30 euro ognuno. Lo sviluppo in diapositiva grosso modo costa 20 euro l'uno. Quindi buttiamo facciamo una media, ogni 36 scatti sono 50 euro che prendono il volo. Quindi una cosa davvero da amanti veri appassionati di quella che è la pellicola che non è morta, ma caspita quando costa cara. Ma prima di concludere vorrei segnalarvi, lo metto qui sopra, il video di presentazione di Leica per farvi capire effettivamente che è un prodotto che non è usa e getta come qualsiasi altra fotocamera. La compri e dopo due anni, tre anni, passi al modello successivo. No, effettivamente è un oggetto da usare e conservare per tranquillamente 50 anni. Infatti nel video ci mostra la cura, l'attenzione, la precisione in tutte le singole lavorazioni dal telemetro, dagli ingranaggi, dalle tendine dell'otturatore. È qualcosa di davvero prezioso. Almeno questo, secondo me. Vi ringrazio come sempre per seguito le Bocci News e ci vediamo al prossimo video.